Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, rieccoci nel lunch dei motori, l'appuntamento infrasettimanale per fare un po' il punto di quanto il mondo dei motori, ma soprattutto la massima categoria ha dato di sé dopo il weekend della Turchia in attesa della tripletta americana e in seguito della tripletta nel Golfo Persico. Stasera a Parterre d'Erua, sulle antenne, visto che da Sky ed Intorni arriva Roberto Chinchero. Ciao Roberto. Ciao Alessandro, ciao Matteo, ciao Fulvio. Ciao Roberto. Matteo da Zone ed Intorni, quindi satelliti li abbiamo tutti noi. Ciao Matteo. Ciao Alessandro, ciao Roberto, ciao Fulvio e buonasera a tutti quanti. Dicevamo, fine o comunque concluso il weekend della Turchia, una gara magari che si attendeva un po' più pimpante, un po' più divertente, viste le condizioni meno scivolose della pista, ma con pista umida bagnata che riportavano la scorsa stagione, che aveva incoronato per la settima volta Luis Hamilton, il campione del mondo, questa volta ha visto il risultato che ha riso comunque in pratica a Max Verstappen che ha ripreso la testa del mondiale solo sei punti. Prima facevo qualche conto tra Brasile e lo Zail, quindi Qatar potrebbe decidersi il mondiale se i due galletti di questa stagione inanellassero diversi zero a testa, ma comunque mancano sei gare, mondiale apertissimo, ci sarà tanto da divertirci, non mancano le polemiche, perché appena la Mercedes cambia parte del motore comincia a riviaggiare di più, da casa Red Bull o i boh che succede e quindi ci vengono messi sul tappeto dubbi, dubbi che però credo non hanno ragione d'essere, le squadre stanno lavorando al massimo, soprattutto chi sta rendendo questa stagione apertissima, Mercedes e Red Bull, un gran premio di Turchia, Roberto, che ci lascia con quale indicazioni per l'ultima parte di stagione? L'indicazione è stata una gara intensa, forse magari meno spettacolare, però molto intensa, molto ricca di temi. Io credo che questo mondiale, e in Turchia si è visto ancora, è un mondiale dove non è concesso a nessuno dei contendenti, e qui in particolare Red Bull e Mercedes, di lasciare nulla al caso, tutto deve essere al 100%. Quando accade che manca qualcosa, inevitabilmente poi nella classifica di campionato si vede. In questo caso io credo che abbia lasciato qualche punto sul campo la Mercedes, che ha provato a fare la Mercedes, cioè la Mercedes e Hamilton hanno provato, al di là del fatto che c'era comunque una Mercedes in testa, quella di Valtteri Bottas, che ha fatto una gara alla Bottas, perché Bottas quando è in testa e quando deve impostare una gara sul ritmo è un top driver. Dicevo, la Mercedes ha provato a vincere la gara anche con l'altra macchina, che chiaramente quando ora si fosse portata alle spalle di Bottas ci sarebbe stato lo scambio di posizioni, come giusto che sia, però hanno provato a giocare una carta rischiosa, lo sapevano, cioè quella di rimanere in pista nella speranza che il circuito si asciugasse e che offrisse così a Hamilton la possibilità di andarsi a giocare la prima posizione, una scelta indubbiamente affascinante, però poi bocciata da quelle che sono state le condizioni del tracciato che abbiamo visto fino alla bandiera a scacchi. Io questa volta non sono molto d'accordo con la scelta a Mercedes, ci sono fatti ingolosire, in fin dei conti loro se avessero, avendo la vettura più veloce in pista, e questo è l'aspetto più importante, loro avevano la monoposto più veloce in gara, l'hanno avuta per tutto il weekend, anche un po' a sorpresa visto il margine. In quel caso credo che, visto che loro non corrono per il successo di tappa, ma corrono per il mondiale, credo che sarebbe stato più saggio fare la gara su Verstappen, ovvero seguire la strategia Red Bull, sapendo che a parità di condizioni comunque c'era la possibilità di recuperare, e io credo, anche se qui poi entriamo chiaramente nel campo dell'ipotesi che Hamilton avrebbe potuto lasciare Istanbul con una terza posizione che sarebbe stata ottima, considerando che in Russia la Red Bull, cambiando motore, è vero che partiva in fondo, ma ha festeggiato un passivo di tappa di sette punti come un successo, Hamilton avrebbe potuto limitare a tre i punti persi su Verstappen con il cambio dell'unità endotermica. Quindi credo che in questo caso Mercedes abbia lasciato qualcosa sul campo e concludo dicendo che, secondo me, quando si lavora sotto pressione è un po' più difficile rispetto a quando si ha margine, e se si confronta Mercedes di quest'anno, con quello dello scorso anno, si nota subito che sono arrivati molti errori in più. Errori, sbavature, diciamo così, ogni tanto anche io. Sbavature, hai ragione Alessandro, però il problema è che, sai, questo è un mondiale che si sta giocando sul mezzo decimo, sul punto, se non sul mezzo punto di Spa, per cui, sai, c'è anche il rischio che a fine anno una sola di queste sbavature possa fare la differenza. Sbavature anche qualche volta nei pitstop, questa volta Sainz, ma spesso e volentieri anche altri, in virtù delle ultime normative che hanno un po' cambiato le cose. Ma ad Istanbul importanti i secondi, questa volta dentro uno ha vinto Bottas, l'altro è riuscito a centrare il podio, un Perez che ancora non riesce a digerire la Red Bull. Io credo, Roberto, che possano essere decisivi anche i compagni di squadra di Hamilton e di Verstappen, perché hanno già cercato di smarcare una nuova power unit, però, 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 i valletti cosiddetti o comunque i compagni di garage possono essere decisivi in questo mondiale 2021. Sì, soprattutto quando la monoposto è la più veloce. Cioè, qui abbiamo visto, qui intendo dire a Istanbul, abbiamo visto una Mercedes indubbiamente come la monoposto più veloce. Quindi ha offerto anche a Bottas la possibilità di togliere punti a Verstappen, cosa che poi ha fatto in modo anche brillante. e non era riuscito a farcela Perez a Sochi, però Perez qui è riuscito a togliere punti a Hamilton. È chiaro che i compagni di squadra, soprattutto se i due candidati si dovessero trovare in un momento di difficoltà, giocano un ruolo molto importante. Perché, e qui torniamo al discorso affrontato poco fa, togliere due punti, togliere tre punti, in altre stagioni sarebbe stato meno significativo perché i margini erano molto ampi. Non quest'anno. Quest'anno possono essere cruciali. Credo che sia Perez che Bottas siano usciti da Istanbul con grande approvazione da parte delle rispettive squadre per il lavoro svolto. Certo, questa strada è ancora lunga, però insomma un contributo lo stanno dando. Fulvio, Matteo, domande per Roberto? Vado io? Ne ho una per Roberto e se Fulvio non vuole andare per prima? Sì, sì, vai, vai. Ok. Allora, partirei con un confronto. Roberto, tu hai parlato di una Red Bull che vedi più concreta, no? Rispetto a Mercedes che sembra aver lasciato qualche punto. Però quanto può valere la mancanza di Red Bull dai piani alti, dalla lotta mondiale? Perché Red Bull alla fin fine non lottava per il titolo dall'ultimo anno del regno di Vettel. No, poi ci sono state sì vittorie, ma non c'è mai stato un confronto vero e proprio con Mercedes. Ecco, come vedi tu? Come vedi la situazione a Milton Keynes? Come pensi che stiano reagendo? E anche in prospettiva per queste ultime gare della stagione pensi che il punto critico sia già stato sorpassato oppure ci sarà ancora tanto lavoro da fare per battere la vera dominatrice degli ultimi anni? Guarda, Matteo, io credo che quest'anno complessivamente la miglior monoposto l'abbia messa in pista la Red Bull. Poi sono accadute un po' di cose, un po' di vicende nelle ultime gare che hanno portato per tanti differenti motivi Vestappen a concretizzare un po' meno. Però ci ricordiamo quella che è stata la fascia, la parte centrale del campionato Vestappen ha praticamente dominato la scena. Ora, giustamente tu dicevi da sette anni vince una Mercedes e verrebbe da pensare, credo che sia anche naturale, che Mercedes sia più abituata ad essere lì a lottare per un titolo. Però ci sono due aspetti. Il primo è che in fine conti in Red Bull non è cambiato in termini di figure chiave di personale rispetto all'ultima vittoria pre-Mercedes, cioè Vetter in Red Bull, non è poi cambiata così tanto la gente nel box. Sono più o meno, non dico tutti, gli stessi, però nei ruoli chiave ci sono le stesse persone. Quindi sono persone che hanno già vissuto l'aria, respirato l'aria che c'è quando si va per il titolo. Poi loro sono anche molto ambiziosi, a volte anche arroganti, direi. Quindi si trovano un po' nel loro habitat naturale. Poi vediamo quando arriviamo alla stretta finale, ma io credo che anche Max è nel suo habitat quando vince. Lui non si dava pace gli anni scorsi perché non riusciva a raccogliere quello che lui pensava di meritare. Abbiamo visto anche a Zalford. Quest'anno c'è stata la cornice che avrebbe fatto, credo, commuovere il 90% dei piloti presenti oggi nel paddock. Gara di casa, vinci, trionfi, 70.000 persone in orange. Lui era tranquillo, sono qui. Ecco, questo è finalmente il mio posto e io qui ci sto bene. Questa è la mia poltrona naturale. In Mercedes, paradossalmente, invece, vivono una situazione nuova. Perché al di là delle stagioni 17-18, dove hanno avuto sì un confronto a tratti duro con Ferrari, però che si è risolto dopo Monza. Perché in entrambi i casi, più o meno dopo Monza, il Mondiale ha preso una direzione Mercedes. Quest'anno sono ben coscienti, primo, di non avere una macchina superiore. E secondo che, credo, al di là di colpi di scena, che quest'anno ci possono essere sotto tante forme, non escludiamo del tutto che potrà essere un problema o un motore a decidere questa stagione. Dovesse succedere qualcosa ad un motore in gara. Il Mondiale è finito, perché ci rimette due gare, non una, ma due. Però per Mercedes, vedo una Mercedes sotto pressione, ed è una pressione a loro sconosciuta da sette anni. Per quello dico che, in realtà, chi sta sentendo, a mio parere, più pressione è Mercedes. È un po' paradossale, se ci pensiamo, perché la tua osservazione è corretta. Dici, dopo tanti anni, è una situazione nuova per Red Bull. Però io vedo più pressione da parte di Mercedes, perché hanno preso anche... Gara dopo gara sono diventati consapevoli di non avere la macchina migliore per eccellenza. Io poi credo che stiano spremendo molto il motore. Adesso c'è una mappa unica, quindi decidi prima della qualifica che mappa utilizzerai da lì alla bandiera scacchi della gara. E io ho l'impressione che stiano usando qualcosa in più, anche perché, perso per perso, a quel punto lì, sai che la macchina non la cambi più. Da Silverstone non l'hanno più cambiata. Sviluppi in cantiere non ce ne sono. Hai da giocarti quella carta. Adesso vedremo ad Austin se la Mercedes confermerà, soprattutto in termini di velocità di punti e accelerazione, i dati che abbiamo visto a Istanbul. Siccome non esistono miracoli, non esistono risultati casuali, se sarà così vuol dire che loro effettivamente stanno spremendo più il motore, prendendosi qualche rischio sul fronte affidabilità. Perfetto, grazie Roberto. Figurati. E so che dobbiamo liberarti perché i tuoi impegni sono tanti. No, ma adesso c'è una domanda di Fulvio e quindi Fulvio, grazie. Sì, beh, io volevo fare un po' un salto in futuro, se così possiamo dire. Che ne pensi dell'anno prossimo? O meglio, come vedi la Formula 1 nel futuro? Che indirizzo sta prendendo? Che strada sta prendendo? Se è quella corretta o meno per salvaguardare il passato della Formula 1? Allora, sulla sprint qualifying a me non piace, l'ho già detto in più occasioni. Siamo in due, penso. Perché, ma per un motivo molto semplice, io trovo che non sia da Formula 1, al di là della Pol, assegnare la Pol, non sia da Formula 1 arrivare in pista venerdì mattina, fare un'ora di prova e poi congelare le macchine. Questo è l'aspetto che mi fa, non mi fa piacere la sprint qualifying. Poi sotto tanti altri aspetti, questa settimana ho avuto l'opportunità di fare un'intervista a Sebastian Vettel, che abbiamo pubblicato un paio di giorni fa su Motorsport. E Vettel ha criticato in maniera molto precisa il management di Formula 1, ma è una critica costruttiva. A me, sai, quando vedo una persona che dice Formula 1 non è più quella di una volta, poi gli chiedi perché... Non ti sa rispondere. E non ti sa rispondere. Perché è un luogo comune. Spesso chi critica la Formula 1 dicendo che è noioso ai Grand Prix, manco di guarda. Perché è diventato un luogo comune. E vabbè, con questo ormai ci conviviamo da anni. Però, quello che io trovo come un limite, e inizialmente invece era vista come una grande apertura, è coinvolgere troppo le squadre nella stesura dei regolamenti. Ovvero, alla fine la squadra fa il suo mestiere. La squadra è lì per vincere e difficilmente puoi chiedere a una squadra di avere una visione d'insieme. Anche perché se noi quattro fossimo all'interno di un team, a noi delle grandi problematiche, ce ne frega di meno, noi puntiamo a far vincere la nostra squadra. Però ci vuole un organo superiore che faccia, sulle grandi scelte, abbia le idee chiare e porti la Formula 1, indipendentemente da quello che è il volere di un team o un altro team, deve dare un indirizzo. E in questo momento io vedo le squadre troppo influenti sulle scelte che prendono Liberty e FIA. FIA se ne lava un po' le mani, a parte, riconosciamolo perché è giusto, il tema della sicurezza dove non ha fatto sconti. Per il resto, sai, c'è l'F1 Commission, alla fine l'F1 Commission prende una decisione e la FIA mette un timbro e via. Cioè non è che sta lì a entrare troppo. Se sono d'accordo lì va bene così. Liberty punta agli ascolti, che poi si traducono in entroiti economici. Sotto molti aspetti ho apprezzato l'apertura di Liberty, perché l'idea che ha funzionato benissimo per 30 anni con Bernie Eccleston del club esclusivo non è più attuale. Io credo che non sia più attuale, ormai non penso che funzioni neanche più l'idea dell'esclusività, l'idea del paddock inaccessibile. Funzionano altri meccanismi. E questo Liberty l'ha capito bene. Però non deve, a mio parere, superare una linea di demarcazione che poi tocca il DNA. La Formula 1 è Formula 1 anche perché, a differenza di tanti altri campionati, ha 70 anni i roti di storia alle spalle. Quindi quello non va dimenticato, ma nell'interesse della Formula 1. perché è qualcosa che la differenzia da... Tu puoi scostruire un circuito ovale nel giardino di Alessandro, ma non sarà mai Indianapolis. Perché Indianapolis ha una storia, un background, anche se lo rifai uguale. E questo è un aspetto importante. Questo aspetto la Formula 1 lo deve tenere presente. Spero che riesca a devolversi, poi mi chiudo, se no andrei avanti due ore e vi annoierei tutti, restando al passo coi tempi, perché poi ci sono i passatisti, secondo i quali i piloti dovrebbero ancora correre col casco di legno, ma deve evolversi la Formula 1. Però ci deve essere quell'esercizio virtuoso di sapersi evolvere senza perdere il proprio DNA. Sotto questo aspetto, per me, la sprint qualifying non è una grande scelta. Ti dico la verità. Così come magari la scelta di alcuni posti dove andare a correre. Io sono un grande fautore dei nuovi mercati perché è giusto andare a esplorare. Ma l'ha sempre fatto la Formula 1. Non è che è una roba di adesso. Adesso poi di colpo sembra che... Anche quando sono andati la prima volta a Montreal è stata un'esplorazione. Poi Montreal ha uno dei circuiti più belli e ce li hanno tutti volentieri. Ci regala anche delle gare molto belle. È giusto esplorare. Però magari tu fai uno zoccolo duro di 13, 14, 20, e quello deve essere il tuo zoccolo duro. E poi ti lasci una finestra per andare a cercare nuovi mercati, nuovi appassionati. E quello lo fanno tutti gli sport. Lo fa il calcio, lo fanno tutti. Per cui non sono pessimista alla fine, Fulvio. Però bisogna sempre vigilare, e qui credo che anche i media abbiano un loro ruolo, perché non si esageri in una direzione. Non so se sono stato chiaro. Sì, sì, chiarissimo, e sono anche d'accordo con te. Comunque anche noi ci stiamo da anni, da mesi, lottando per portare quello che in Formula 1 era prima, un aspetto, o più aspetti interessanti, il warm-up via il parco chiuso, ci vorrebbero più test. Però lì, attenzione Alessandro, poi entri in altri... perché mi hanno insegnato, dicendomi, perché c'è stato il parco chiuso, o perché hanno tolto il warm-up. Io penso invece che ci vogliano più test, ma non puoi fare più test con questo numero di gare. Per cui devi rinunciare. Puoi rinunciare a tre gare e metterci magari tre test. Chiaramente, però, le squadre, poi, che poi magari da una parte chiedono più test, i test non portano soldi, le gare sì. Questa è la differenza. Per cui far più gare vuol dire aumentare gli introiti. Far più test non guadagni nulla, spendi e basta. Quindi anche lì ti vai un po' a scontrare con... Per quello serve la federazione, che a un certo punto ascolta tutti, che è un ruolo che non ha più tanto. Ripeto, ce l'ha nella sicurezza. La sicurezza, se decidono di fare una roba, la fanno e tutti muti e decidono loro. E bisogna riconoscere che hanno lavorato perfettamente. Su altri aspetti, la federazione è un po' passiva. Perché io credo che il format attuale non sia male, però, ripeto, non puoi fare un weekend con una sessione vera di prove libere, perché è ridicolo. E come è stato quest'anno, fare un campionato con tre giorni di test è stata un'altra cosa che francamente non mi trovo d'accordo. Io credo che fare sette, otto giorni di prove prima della gara d'esordio sia già un'altra cosa. e magari in cinque o sei weekend il venerdì mattina, cosa che stanno discutendo, imporre la presenza di un giovane. Così risolvi anche un problema. Cioè la imponi proprio. Dici, quella sessione, chi vuole essere in pista deve mettere in pista un pilota che non ha disputato. Rucchi mi sembra che è un pilota che non ha disputato più di due Gran Premi. Magari sono i piloti che hanno fatto due Gran Premi non puoi farli passare per veterani. Cioè voglio dire. Per cui è... Però se ne parla, Alessandro. Cioè io credo che l'aspetto positivo è che se ne sta parlando e questo fin quando se ne discute c'è ancora possibilità che qualcosa la si possa vedere. Io ho una domanda... Grazie, mi dispiace. Vi giuro che resterei ancora un'oretta, un'oretta e mezza. ma a causa di forza maggiore vi devo salutare. Ci riserviamo il piacere di riaverti con noi a fine della stagione per fare il resume di quanto accaduto. Grazie Roberto per averci fatto compagnia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a Matteo. Bravissimo. Ciao. Io ho, ragazzi, una domanda, non so, da fare una questione, un tema che capirei. Ci sarebbe, secondo voi, una categoria dalla quale la Formula 1 potrebbe trarre ispirazione. Cioè, prendere magari, magari non per forza sanzionata dalla FIA. No, 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 è una bella domanda. C'è qualcosa che voi portereste da un'altra serie in Formula 1, ma può essere una cavolata, un dettaglio, come anche qualcosa di più importante. Sinceramente, ispirazione per cosa? Perché più che altro dipende, io credo, dalla testa di chi deve decidere. Sì, esatto. E magari lo fa guardandosi intorno, gare a ruote scoperte, quattro ruote, se questa è l'espressione massima del motorsport, io sinceramente non guarderei da nessuna parte. Roberto ha espresso la sua opinione, la nostra, la mia, è chiara, perché l'abbiamo più volte ripetuta. Quindi non c'è un qualcosa, Alessandro, che secondo te si potrebbe prendere, non so, da un WEC, da una Formula E, da un IndyCar, da... anche dal motociclismo, no? Un qualcosa che si potrebbe prendere come fonte di ispirazione, portarla in Formula 1, ma parlo sia di format, così come anche a livello proprio gestione economica, gestione delle componenti, eccetera, eccetera. Non lo so. Guarda, io, un po' sull'aspetto tecnico, perché sapete che io sono abbastanza appassionato di tecnica, eh sì, ad esempio quello. Sull'aspetto tecnico prenderei da WEC il fatto di avere in un regolamento, tra virgolette, fisso per tutta la stagione. Questo non a non far sviluppare i team, anzi, dare anche più libertà ai team, ma avere almeno una base di progetto molto simile tra di loro, un po' come faranno l'anno prossimo. Però quando poi durante la stagione B, Bop, a Lula, ci piazzano un carico su diverse macchine, quello è il problema, perché purtroppo... Non è che nel WEC ci sia tutto sto congelamento del regolamento, anzi, cambia così. Però nel WEC c'è una grande possibilità di poter lavorare tanto nei test. Quindi loro fanno tanti test, quello che dicevamo anche con Roberto, che loro, su quella base là, loro vanno a sviluppare la macchina. E quello che noi non vediamo a livello estetico, perché alla fine il livello aerodinamico è fisso, quella cosa importante, ma loro lavorano tanto sul livello meccanico. Addirittura Toyota è scesa in pista nelle settimane scorse e ha cambiato totalmente la qualità dei materiali e delle sospensioni, cioè non tanto l'architettura, ma i materiali stessi. Quindi si fa capire quanta differenza c'è tra un dettaglio e un altro. Quindi, purtroppo, la Forma 1 paga questo, che non puoi provare. Il discorso test, ecco perché, secondo me, è l'aspetto predominante che dovrebbe cambiare, però è un guardare sempre indietro in Formula 1. Quando c'erano test prestagionali toggiorni e adesso la notizia di queste ore pare che ci saranno di nuovo otto giornate, cinque a Barcellona, tre in Bahrain, però anche durasse la stagione, ok? Che ci sono tanti fine settimana, però se poi ci gira un giovane che non fa la stagione, il feedback che può portare al team, punto di domanda, perché poi sono i piloti che conducono le monoposte tutto l'anno che dovrebbero avere più sensazioni e io credo, se ci sono anche dei gran premi, non dico back to back, ma si trova lo spazio per fermarsi un giorno o due come si faceva prima, quindi di nuovo guardare in Formula 1 per fare dei test infra gran premio. Sì, io sono d'accordo, addirittura i test li farei a pagamento, quindi trasmetterli in pubblico sulle PTV o in Chiara, comunque vendere i diritti commerciali e trasformarli in una sorta di gran premio, certo, non c'è lo spettacolo della gara, non c'è l'azione della pista, però tu hai la possibilità di vedere le macchine girare prima ancora che inizia la stagione, avere più libertà di inbox, quindi far vedere il lavoro che fanno, farlo soprattutto capire a chi vede la casa, perché molte volte quando si vedono i test, io per esempio dei test sono molto affascinato, perché si vedono diverse prove di soluzioni tecniche, rastrelli, Ferrari per esempio in questo weekend passato in Turchia ha approvato un nuovo tipo di rastrelli vista da Abu Dhabi nei test del 2020 che l'abbiamo detto è una soluzione lavorata soprattutto per raccogliere il volume dell'area, non solo più il flusso classico, quindi sono tante piccole cose che però l'appassionato va costruito, va portato con mano tra virgolette dentro la forma 1. E guarda caso gli ultimi due anni non tutte le emittenti ma quelle che seguono la stagione hanno incominciato a trasmettere anche i test e quindi va un po' sul discorso di quella giornata o due infra gran premio io direi di no anche perché magari la possibilità per i team di provare cose che non e non di doverlo fare poi nascosto il venerdì e non nella maniera che si dovrebbe perché poi alla fine non ci sono altre possibilità e poi i piloti invece che mantenerli così in attività come è successo negli ultimi settimane di vedere girare a Fiorano in altri posti i vari piloti con monoposto antiche che senso ha? Fate rigirare i test con le monoposto da sviluppare cioè è un contrasenso quello sotto a questo ma questo è un problema che si porta avanti da tanti 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 anni ma secondo me anche la regola del parco chiuso per dire è un qualcosa che secondo me rende molto troppo monotono in lineare il discorso tecnico perché una squadra non può lavorare non può intervenire sul setup ancora di più con il concetto della spring qualifying perché lì la macchina deve essere praticamente pronta già il venerdì e a parer mio non lo so cioè la Formula 1 quest'anno ad esempio in pista è bellissima è davvero fantastica la battaglia che si può commentare vivere in pista ma non solo tra Mercedes e Red Bull tra Hamilton e Verstappen proprio anche grazie alle altre vetture alle altre squadre che si siano avvicinate grazie ai cambi regolamentari a un compattamento dei livelli eccetera quello che secondo mi manca e lo dico da appassionato rispetto agli anni passati è non lo so l'apertura semplicemente avere un po' più di flessibilità no? non la classica rigidità che ok può essere anche data dal Covid per dire perché bisogna contenere i costi però essendo la Formula 1 un qualcosa di estremo cioè l'hai detto tu Alessandro il punto di riferimento delle ruote scoperte mi aspetterei qualcosa in qualcosa in più no? poi è una mia visione ed è assolutamente contrastabile e opinabile anche solo non so io non parlo di test perché i test le problematiche le problematiche le test le avete esposte voi così come Roberto ma semplicemente come lavori e intervento sulle macchine che secondo me è troppo limitato già aver limitato a soli tre componenti della Power Unit no cioè ok aumenti l'affidabilità ma è Formula 1 cioè non puoi fare 20 non puoi fare 20 si parla di 23 gare il prossimo anno 23 gare con tre unità assolutamente restano le così le gallerie del vento e tutte quelle prove empiriche come simulatori è la pista che comanda è la pista all'asfalto che ti dà la sensazione le gomme che rotolano mosse dal motore su il simulatore anche noi con i giochini o con tutto quello che ha sviluppato l'esplosione anche del e-sport io le trovo un po' legato al motor sport io lo trovo un po' tra virgolette un controsenso perché perché è venuto fuori vista la mancanza extra campionati di quell'attività che invece dovrebbe essere per piloti team tecnici ingegneri chi più ne ha più ne metta di sviluppare degli aggeggi che vanno in pista che costano già un'infinità e tu lo sai bene commentando la IndyCar un decimo tra quello che costa un IndyCar costa meno della F2 rendiamoci conto quindi hai in mano una roba megagalattica e alla fine la tieni legata non la puoi far girare non la puoi far no è come avere un toro chiuso in due metri di stalla non puoi secondo me è come una sensazione di essere di castrazione di blocco di limite e poi gli stessi sponsor sarebbero contenti di essere visti anche durante la stagione o comunque sia hai più possibilità di essere visto se non nel fine settimana dove già hai perso un'ora nelle prove libere hai aggiunto in tre occasioni la terza andrà in scena a Interlagos su quel weekend atipico anche lì rivedibile corregibile secondo cose che poi non sono così da scienziati perché rendere una gara short invece che una qualifica lasciando la qualifica quella che era e che è vale sì sì no finito aspettavo pensavo di aver perso la connessione secondo me tra l'altro la spring qualifying non è così tanto bella da fuori da casa mentre purtroppo non sono più andato in autodromo è dal 2018 che non ci vado da lì dalle tribune secondo me qualcosa in più per lo spettatore è secondo me su questo ti posso dire io perché un amico l'ha vista a Monza esatto è una gara in più sì esatto è quello che dici tu vedi l'adrenalina dalla doppia partenza quello che ha detto è stato quello che è e il venerdì è più interessante se vogliamo perché il venerdì esatto lui però era un po' d'accordo come noi che va a snaturare totalmente il format della formula 1 anzi lui addirittura è un po' come la visione che abbiamo noi quella di dire è assurdo che le prove libere siano di un'ora anche un'ora e mezza prove libere puoi farle durare addirittura la cosa più bella era collettare le prove libere cioè la forma fp1 e fp2 mettili insieme e farle a tre ore farle girare in pista per tre ore consecutive dove loro possono fare prove di pit stop passo gara simulazione qualifica però è un'ora vincente anche per chi lo vede da casa comincia comincia a capire perché se tu vedi un prodotto che ti dura un'ora per assurdo ti squilla il telefono devi lavorare il venerdì soprattutto poi è difficilissimo quando la persona riesce a avere un'ora dedicata di mattina a vedere le prove libere quindi perdi la passione e questo è il problema anche la formula 1 adesso non riesce più ad appassionare i tifosi veri i nuovi stanno arrivando perché comunque c'è l'interesse la sfida e quant'altro ma non c'è non ci sono fondamenti concrete cioè basta che li vedi lunedì non è che ti vanno a fare il commento tecnico sul particolare perché non ne hanno le capacità non ne hanno le conoscenze e quello è il problema quindi alla formula 1 gli manca questo cioè gli mancano le fondamenta di costruire il futuro il futuro può essere anche divertente perché i nuovi regolamenti si stanno aprendo in maniera interessante e dopo vi farò vedere una cosa però secondo me manca proprio avere un sostegno forte solido da poter dire ok adesso come anche dice Roberto cioè ci manca una federazione che a 360 gradi tutela il suo stesso sport ma invece pensa a fare idee come ad esempio il ranking FIA che a parere mio è un qualcosa di totalmente il ranking motorsport è qualcosa di totalmente inutile cioè è un qualcosa che cioè non è la priorità si potrebbe pensare però Roberto scusami se ti interrompo hanno copiato un po' l'idea del ciclismo perché nel ciclismo c'è il ranking mondiale dove tu hai dei punteggi hai determinate gare che ti danno un punteggio e in base a quel punteggio tu puoi o meno arrivare in alcune corse poi se la squadra viene invitata ma questo è un altro discorso però il ranking funziona che tu puoi accedere o meno a determinate competizioni qua no non c'è questo non può esistere proprio una cosa del genere ma no anche perché poi i costi sono il quadruplo esatto non so il ciclismo non lo seguo però penso che ma siamo quasi dieci volte in più esatto quindi secondo me il problema è quello non manca l'intrattenimento perché le gare sono bellissime quest'anno cioè se noi paragoniamo il 2021 e il 2020 totalmente altro livello bellissimo ci sono state alcune gare di formula 1 secondo me anche più divertenti se confrontate ad alcune gare della IndyCar e il che è tutto dire cioè almeno per me sto esprimendo un gusto una cosa soggettiva molte gare sono state belle molto molto affascinanti manca però quel pizzico di attrattività perché secondo me con la formula 1 dei prossimi anni se si dovesse continuare in questo senso il pubblico nostro quello che è cresciuto nei primi anni del nuovo millennio non lo so perderà un po' di di attaccamento a quel concetto di formula 1 soprattutto perché non vedo tantissima sostanza non vedo tanta sostanza però penso che forse con l'arrivo di nuovi costruttori nuovi fornitori si parlava di Audi e Porsche che tanto alla fine fanno parte dello stesso marchio Volkswagen possa cambiare qualcosa tra l'altro tu hai detto Fulvio e anche Alessandro avete parlato di un'ora secondo me un'ora di prove libere è un qualcosa che si può vedere solo e soltanto nelle moto è troppo poco cioè nelle moto l'ora è giusta perché ti dà il tempo di fare tutto i tempi sono dimezzati in formula 1 l'ora e mezza era pressoché perfetta anzi avrei esteso come detto da Fulvio a tre ore oppure fai due ore e poi vedi cerchi di giustrati perché poi con power unit del genere con sistemi così complicati i tempi vanno ad aumentare in maniera esponenziale questa è la mia questa è la mia idea la mia visione un'ora di prove libere può essere più divertente per i piloti e Lecler lo ha detto perché giri di più e stai meno tempo ai box guidi per più minuti per più tempo e quindi ovviamente chi sta dentro l'abitacolo si diverte di più dall'altra parte però l'appassionato in un'ora cioè se si perde qualcosa c'è il filo conduttore della sessione sparisce completamente poi neanche puoi fare simulazioni gara decenti possono durare al massimo 10 giri che ci fai con 10 giri di simulazione giustamente tu hai fatto riferimento paragone una cosa che segui ovvero il moto mondiale guarda caso durante la stagione ci sono i test e addirittura provano parti se non moto in vista della prossima quindi ha ulteriore conferma che la cosa principale è la mancanza di test di prove di allenamento in tutti gli sport le squadre si allenano si riscaldano si preparano prima dell'evento nel moto sport e segnatamente la formula 1 no è un contro la moto gp li fa i test per dire ma ovvio che i costi siano diversi ci sono due ruote in meno quindi si dimezza l'investimento però la moto gp i test durante la stagione infrastagionali li fa ed è comunque un colosso no non è come la formula 1 non è allo stesso livello però li fa io penso qualcosa in mezzo anche per gli appassionati per i fan a livello di marchio si possa fare e poi ci metti in mezzo le tv perché la televisione che sia privata che sia sui social canali social media eccetera eccetera ti porta pubblico magari sponsorizzato come sta facendo Liberty Media che a parere mio ha fatto un gran salto in avanti a livello di immagine allora si potrebbe fare si potrebbe fare qualcosa in più magari mettendo un biglietto di 10 euro gli appassionati potrebbero andare agli autodromi e gli stessi autodromi potrebbero guadagnarci però vabbè io parlo ho toccato sono tante belle idee che però alla fine mancano nel concreto e anzi quando i poveri poveri tra virgolette spettatori che vogliono andare a fine settimana di formula 1 devono pagare cifre esorbitanti e anche qui si potrebbe aprire una discussione che potremmo fare più avanti ma ripeto sono tante le soluzioni che per migliorare si potrebbero trovare oltre a quelle che tentano di si parla di un'assenza della FIA forse perché Rose Brown veste la camicetta di Liberty della formula 1 dovrebbe stare magari in FIA per far sì che la federazione però alla fine della fiera io credo che persone che abbiano un certo trascorso che abbiano certe idee e tutto possano rendere più appetibile più così anche piacevole un prodotto che impista comunque i piloti in queste due ultime stagioni soprattutto lo stanno facendo e soprattutto quest'anno dove il mondiale è apertissimo lo dicevo in apertura mentre l'anno scorso si era deciso in Turchia due anni fa ad Austin adesso si rischia di arrivare all'ultima se non alla penultima con ancora il titolo 2021 direi piloti perché quello costruttori a naso potrebbe magari arrivare prima però 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 come detto tappa americana Austin città del Messico e Brasile con l'ultimo weekend atipico per poi esordio lo sai l'ignoto esordio in Arabia Saudita Jedda con le immagini del circuito ancora in opera e riuscirà l'opera ad essere compiuta prima della data in calendario per poi chiudere ad Abu Dhabi abbiamo con Roberto soprattutto fondato il tema Mercedes e Red Bull adesso una domandina prima poi di lasciarvi allegramente scorazzare in cose tecniche in una cosa che già avete visto apparire sullo schermo prodotta dal nostro Deus in macchina Fulvio Ferrari Ferrari che ha carezzato il podio è partito in seconda fila con Leclerc ha chiuso quarta un Sainz che partiva ultimo per il cambio del motore e ha rimontato ovviamente per quelle che sono le prerogative della Ferrari di quest'anno della gara che è disputata su un tracciato con l'asfalto diverso sì ma che non si asciugava con le gomme che da slick da intermedia sono diventate slick e però sono riusciti a generare lo stesso come è stata qual è stata la gara al fine settimana turco per le rosse vado io? sì ok poi lascio spazio alla tecnica che Fulvio è sicuramente più adatto di me per me la Ferrari ha fatto bene a provarci Roberto Kink che prima ha parlato di Mercedes che ha lasciato qualcosa ad Istanbul in Turchia Mercedes si sta giocando ha più o meno con Hamilton seguito la stessa strategia di Leclerc ossia rimanere in pista per provare ad arrivare con quello stesso treno di gomme come fatto da Ocon fino a fine gara però Mercedes è in lotta per il mondiale quindi Mercedes si è presa un gran rischio Ferrari sta lottando sì per la terza posizione ma non si sta giocando il titolo di dato dunque ci stava a provarci certo la beffa per un podio mancato che sembrava essere tranquillamente alla portata c'è però ho visto una Ferrari che ci ha provato giustamente ha visto una McLaren che comunque di passo non ne aveva per stare davanti ha cercato di portare a casa una vittoria che poteva essere clamorosa poteva essere davvero un boccata d'ossigeno per tutta Maranello non c'è riuscita però quantomeno anche rispetto alla gara precedente a Sochi si è notato almeno da quello che ho potuto comprendere io un filo unico nel ragionamento nei dialoghi tra il muretto e i piloti Muretto, Charles Leclerc, Muretto e Carlos Sainz quindi per me ci stava assolutamente provarci perché se andava bene vincevi se andava male facevi terzo, quarto magari quinto ma tanto non cambiava assolutamente niente terzo, quarto, quinto neanche il secondo posto cioè sono risultati che non si addicono a Ferrari cioè la Ferrari adesso ha bisogno della prima posizione se deve puntare su qualcosa è il primo posto non è una squadra dalla quale si può aspettare un festeggiamento per una seconda posizione certo sarebbe un gran risultato vista la macchina, visti gli equilibri e le forze in campo però Ferrari per quella che è stata nella storia per quello che ha fatto nella storia del motorsport e della Formula 1 deve essere in prima posizione mi è piaciuto diciamo l'atteggiamento ossia proviamoci male che vada scendiamo in quarta posizione o in quinta e portiamo comunque a casa dei punti li mettiamo in cascina e anche grazie alla gara di Carlos Sainz si è diciamo un po' ricucito quello strappo nel mondiale costruttori chiudo con Sainz che gara che ha fatto Sainz Leclerc mi ha impressionato nel passo ma Sainz non ha commesso un errore non ha commesso un errore è stato fortissimo certo l'attacco su Fetter è stato un po' avventato Garibaldino però ci stava il motorsport è anche questo i motori sono anche questo e anche le condizioni della pista al metro anche sì assolutamente un Sainz così deciso non lo vedevo da un po' di tempo perché lui ci ha abituato a costruirsi la gara sul ritmo invece nel momento in cui è stato obbligato a portare avanti un gran premio di attacco di offensiva tutto improntato sui sorpassi è riuscito a raccimulare decimi su decimi posizioni su posizioni peccato per quella per quella sosta così tanto lunga non ricordo l'ass di Schumacher o di Mazzettin non mi ricordo quale auto del team ass stesse passando in Fastlane lì purtroppo può succedere per questioni di sicurezza è forse anche più giusto farlo andare però senza quei secondi persi credo che davanti a Norris sarebbe arrivato tranquillamente sì parto dall'ultima cosa là purtroppo praticamente hanno fatto un errore sul GPS perché praticamente non si sono accorti che la macchina arrivava ma l'errore pratico è stato quello di non farlo andare perché c'era in margine di sicurezza per farlo uscire davanti a Schumacher senza problemi quindi ci sta ci sta probabile che ci sia stato anche qualche problema sul semaforo perché io vedevo che Carlos faceva segno con la mano di andare e il semaforo mi sembrava che era ancora rosso quindi ricordiamo che la nuova normativa dei pit stop è un po' carogna su questo fatto perché praticamente ha un po' rotto la sincronizzazione dei meccanici e anche di tutti i dispositivi che poi tutti i sensori laser sensori di pressione di stacco e attacco delle pistole sono diventati manuali e non più tra virgolette automatici perché prima le coreografie dei pit stop erano quasi automatiche sì Ferrari ha fatto una grande gara Ferrari sarà molto forte sia sul passo gara che sulla simulazione di qualifica perché comunque sono usciti bene o male a cavarsela il sabato quando sono usciti a tirare fuori Sainz ha tirato fuori diciamo dalla crisi Leclerc l'ha portato in Q3 quindi è stato fatto anche un bel lavoro di strategia di team di muretto quindi l'abbiamo detto Ferrari è una Ferrari che sta costruendo il suo futuro sta crescendo bene sta migliorando passo dopo passo e poi anche lo sviluppo tecnico non solo aerodinamico ma anche meccanico e anche quello di ricerca e sviluppo nel futuro è molto importante è molto precoce in Ferrari tanto che hanno debuttato fatto debuttare il nuovo sistema dello stato solido del pacco batterie che è un'innovazione non si sanno ancora esattamente le specifiche tecniche o non si saranno non si sapranno mai ma l'ideologia tecnica è quella di non avere più lo stato solido non avere più il gel come gli ioni di litio come le classiche batterie che abbiamo sulle auto elettriche e come ha Mercedes e come aveva anche Ferrari qualche tempo fa ma questa batteria è assoluto solido che è più leggera ha una capacità maggiore è più efficiente e la cosa importante è che si sono ridotti tantissimo i tempi di ricarica e scarica soprattutto il tempo di scarica che sembra assurdo ma è quello che ti dà la scarica di energia elettrica quello che ti dà potenza quel tempo per Ferrari era molto importante e lo si è visto che la parte ibrida soprattutto da curva 9 a scendere fino a curva 11 se non ricordo male si è vista questo incremento di potenza soprattutto io ho visto più un incremento di efficienza da vettura anche nel modo in cui si guidava molto più stabile nella trazione più pulita in uscita di curva quindi una bella Ferrari se sbaglio Fulvio ma ho visto una ricarica cioè ho notato una Ferrari che magari fino alla gara scorsa fino a due gare fa perché poi l'è la provata in Russia una sorta di ricarica più veloce quel ciclo no? quel ciclo di energia carica ricarica meno dispersione di energia quindi più efficienza anche a lungo termine sì quello si chiama il SOC il state of charge è lo stato di carica o scarica cioè praticamente quel periodo in cui la macchina e l'impianto ibrido ha il suo ciclo di ricarica e poi riscarica se tu riesci a ridurre questi tempi quindi il momento di picco il momento di discesa tra virgolette tu hai una maggiore efficienza perché hai il livello di carica che è una zona positiva maggiore quindi riesci ad avere maggior potenza per più tempo il problema qual è? è che in quest'arco di potenza quindi in quest'arco di efficienza devi rimantenere sempre un certo livello di di energia si chiama energia positiva cioè non devi mai andare al di sotto di quell'energia se no la macchina va sempre ricarica quindi è in debito un po' quello che succede quando con la macchina elettrica non la porti oltre il 30% di ricarica quindi la macchina ha sempre bisogno di altra energia energia quindi non ricaricano le batterie in Ferrari cosa hanno fatto? oltre a cambiare il cambio di batteria ha portato anche a un cambio dei cablaggi quindi i cablaggi sono diventati molto più sottili quindi minore resistenza c'è una maggiore tra virgolette velocità di scambio energetico e quindi questo ti dà una maggiore efficienza è un lavoro lungo però è un lavoro che Ferrari la poteva fare quest'anno l'anno prossimo o meglio durante inverno è impossibile perché è un lavoro che tu devi testare in campo e quello poi dicevamo ritorna sempre un po' il discorso dei test se tu non provi in pista se non li provi se non verifichi esattamente i componenti come funzionano non sai mai se è positivo o negativo per esempio Ferrari ha fatto buttare il nuovo simulatore il nuovo simulatore ha avuto bisogno di circa quasi un mese di calibrazione perché tanti micro dati micro sensori servono proprio per avere un dato più raffinato un dato più fine e quindi ci sono tanti parametri che noi non conosciamo o che pure non ignoriamo però che compongono la sfera poi dell'efficienza del risultato finale e Ferrari sotto questo aspetto sta facendo veramente un grandissimo lavoro e lo si è visto domenica hanno corso molto bene forse ti dico metà io con le Crerk ci avrei provato ad andare fino alla fine e lasciarle in pista con quelle gomme perché comunque stava gestendo bene non stava perdendo tantissimo mi aspettavo però che qualcuno tranne con Convettel ma nel finale gala qualcuno metteva una slick per provare un po' come erano le condizioni vere e proprie sono rimasto un po' con la mare in bocca di aver visto alcune strategie troppo conservatrici troppo legate a rischio incognite varie perché poi l'abbiamo visto l'unico a riuscire a portare la gomma a traguardo anche se dalle voci che avevo Con è arrivato col 2% di gomma quindi un rischio veramente atroce e qua lo si vede praticamente la gomma aveva già avuto un principio di blisting totale questa parte bianca è tela quindi un bel rischio a costo con però qualcuno poteva provare una slick nel finale quello un po' è rimasto un po' la mare in bocca ci ha provato Vettel però troppo presto e soprattutto con le medie io non capisco con questa scelta perché lui allora praticamente aveva delle rosse nuove sì però il problema è che la rossa nuova a parità di efficienza con un asfalto che andava ad asciugarsi si poteva avere un problema di blister di grening cioè che si surriscaldava troppo e quando pendeva le zone di umidità si raffreddeva troppo e quindi andava in grening quello è il problema principale di una gomma media gomma soft quindi quella diciamo la scelta tra virgolette era anche giusta il problema che il tempismo era totalmente sbagliato avesse fatto capolino sole e allora le cose sarebbero probabilmente andate diversamente ma per il secondo anno consecutivo a Istanbul Park le intermedie una domenica grigia umida hanno fatto sì che non fosse segnato il titolo ma con il doppio podo Red Bull soprattutto il fatto che Hamilton partiva da dietro è riuscito in una rimonta a metà comunque sia a arrivare anche lui vicino al podio ma fatto sta che Verstappen ha rimesso il naso davanti adesso dopo questa domenica tranquilla si vola come detto oltreoceano Atlantico la prima gara sarà al Cota dove ci sono polemiche che già abbiamo visto e lo sa bene Matteo magari ci può dire qualcosa sia sull'asfaltatura in alcune zone sia su alcune proprio strutturalmente quasi la pista andrebbe risistemata per bene dove in teoria territorio Mercedes si va poi a città del Messico anche l'altitudine e qui potrebbe essere territorio Verstappen ma io credo da qua a fine stagione massima incertezza massimo equilibrio e come detto il mondiale che si può decidere alla fine torno un attimo sul discorso circuito della Samericas tu hai commentato come commenterai questo fine settimana le gare no il prossimo 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 fine settimana purtroppo che è stato questo buco di due settimane per il prossimo a Misano il Gran Premio dell'Emilia Romagna comunque sia si è corso ad Austin su una pista che è un bel punto di domanda dunque ad Austin si parla di qualche intervento pre Formula 1 credo che andranno a intervenire in curva 2 in curva la 10 ossia il discesone prima di arrivare a Rampino che precede il rettino di un chilometro e due e diciamo quelli sono i punti e forse la 13-14 che lì c'era un bel avvallamento certo con le macchine il problema è minore perché hai più approccio più impronta a terra quindi se non credo che si che si presenteranno gli stessi problemi della MotoGP e del Moto Mondiale quindi sono abbastanza fiducioso cioè ok l'asfalto potrebbe essere comunque non il top del top ma le auto le quattro ruote hanno più garanzie rispetto alle moto che hanno un margine di sicurezza molto inferiore si è confrontato a quello della Formula 1 di tutto il resto io mi ricordo due anni fa 2019 si Fettel rupe la sospensione posteriore destra o la sinistra no posteriore destra posteriore destra quella che è dell'uscita dopo le sedi già lì si iniziò a parlare già lì si iniziò a parlare di problemi comunque di asfalto non è una novità ad Austin la stessa IndyCar quando ci corse nel 2019 non trovò un asfalto perfetto insomma è un problema che dovranno risolvere entro il prossimo anno dovranno risolvere al 100% per assicurare uno se non ricordo male quando debuttò Agustin non ci fu io mi ricordo 2012 il problema fu la polvere lo sporco le macchine erano ingestibili perché almeno non mi ricordo buco avvalamenti vari poi le prove libere purtroppo non io ricordo se non ricordo male proprio il 2012 sul rettilineo quello là dopo le S diciamo che c'erano diversi avvalamenti che poi furono sistemati forse sì insieme al primo anno il secondo anno che fu il debutto agli inizi sì al 2019 c'ero ho fatto il giro a piedi del circuito e in molte zone era stato riasfaltato l'incidente di Vettel mi ricordo in sala stampa ne parlavamo anche per andare sui cordoli in quella curva in appoggio che poi porta verso appunto il lungo rettilineo comunque una pista divertente e credo anche abbia influito comunque nelle condizioni il fatto che sia in Texas quindi zone anche tra virgolette desertiche secche ma si passa anche dal gran caldo al freddo inondazioni che abbiamo visto negli anni precedenti e sicuramente sarà un gran premio divertente dove vedremo se anche la McLaren che in Turchia è stata un po' così sottotono diciamo così ma è sempre in lotta con Ferrari per il terzo posto nel mondiale costruttori che qualcosa vuol dire ma ovviamente attenzione centrata sulla battaglia Hamilton-Vestappen Red Bull Mercedes con l'olandese in testa tra i piloti e i campioni del mondo davanti tra i costruttori per chiudere o comunque andando verso la conclusione anche se come sapete staremo qua ore e ore e ore a chiacchierare di argomenti ce ne sono tanti detto che le voci che vorrebbero già brivio di ritorno nel mondo mondiale dopo l'esperienza di questa stagione in Alpine comunque una vittoria e buone prestazioni per il manager che era in Suzuki che è stato in diverse case motociclistiche che si potrebbe tornare indietro forse non dico non si sia trovato bene ma non è il suo mondo ma è ancora tutto da vedere detto anche che i conducenti dell'automedica non essendo vaccinati dovrebbero essere appiedati e non condurre o la Ston Martin o la Mercedes che di solito assiste sanitariamente durante le gare di Formula 1 passiamo a dare un occhio a una delle novità del 2022 con le monoposto che passeranno ai cerchioni 18 pollici e ad un aspetto che adesso il Monfuglio grazie anche alle sue grandi opere in 3D ci spiega sì Alessandro prendo un po' la palla a balzo dalle foto che hai fatto qui proprio apposta nel 2019 Agustin e sappiamo tutti che il 2022 vedrà il ritorno diciamo delle cover sui cerchi anteriori e posteriori per le Formula 1 cerchi che servono per mantenere il calore dei dischi frenanti quindi non avere dispersione per avere soprattutto minore turbolenza derivante dal cerchio stesso e quindi evitare di avere sia efficienza che anche non avere un disturbero dinamico dal cerchio che produce i vari flussi che vengono prodotti dall'anteriore e la Formula 1 insieme alla FIA hanno sviluppato il concetto di avere un'altra volta diciamo le cover sul cerchio cover che però dovranno essere modificate da qui alla prossima stagione perché praticamente nel dettaglio come tu dicevi nel dettaglio praticamente le cover hanno un problema tecnico cioè il meccanico quando prende il pneumatico quando prende il cerchio non ha nessun punto di appoggio effettivo pratico per poter ancorarsi al cerchio alla mano quindi non poter afferrare con diciamo con facilità il cerchio quindi che cosa si è pensato di fare si è pensato di creare uno scalino tra la cover che questo che adesso vi è evidenziato e il cerchio stesso quindi questo scalino permetterà al meccanico di poter afferrare con più facilità diciamo con diciamo dagli un po' un aiuto nell'estrazione del cerchio dal momento del pit stop e ciò garantirà una maggiore sicurezza il fatto qual è diciamo molto praticamente che queste gomme qua pesano molto di più sono molto più grandi e lo possiamo ben vedere anche da questo 3D quanto è imponente una gomma e questa gomma comunque al momento del pit stop avrà un ingombro maggiore rispetto a quello che noi conosciamo bene quindi ci ritroveremo a avere situazioni di pit stop anche abbastanza critiche inoltre ti faccio vedere da questa animazione qua che abbiamo elaborato questa diciamo è la cover che verrà applicata ma la cover non sarà rimovibile ma sarà una cover che verrà fissata al cerchio e quindi non ci saranno più quegli episodi del 2009 quando le cover si staccavano o c'erano problemi di aderenza ma sarà una cover che verrà fissata saldamente al cerchio come praticamente BBS che è il diciamo il costruttore che ha vinto la gara di appalto per le cover per cover e cerchi svilupperà una sorta di ancoraggio all'interno del cerchio in questa sezione qua che adesso non ti ho evidenziato ma questo sarà praticamente tu diciamo nel punto delle razze verranno create una sorta di supporto questo supporto permetterà non solo di poterle sostituire o cambiare o eventualmente sviluppare le cover ma permetterà anche là di lavorare molto più facilmente sul cerchio stesso in fase di montaggio e smontaggio dei pneumatici inoltre l'esigenza di avere diciamo la cover più all'interno del cerchio non all'esterno come è stata progettata all'inizio e anche quella di facilitarle l'installazione dei vari pesi per il bilanciamento e l'equilibratura delle ruote diciamo che è ancora una forma 1 per l'anno prossimo in via di definizioni in via di dettagli e questo ti fa capire quanto veramente saranno al limite l'anno prossimo le vetture e probabilmente si sta anche cercando di evitare problemi proprio anche di natura tecnica e di natura di sicurezza però questo è uno di quegli aspetti che noi dovremmo mettere in conto l'anno prossimo perché saranno monoposte del tutto nuove e soprattutto è un balzo nel futuro un balzo anche nel buio perché è una nuova tecnologia di vetture quindi aspettiamoci l'anno prossimo una stagione sì divertente ma anche abbastanza incerta lasciami dire grande grafica siamo la formula 1 noi che abbiamo anche il 3D non so quanti si possono permettere andare in diretta e comunque far vedere anche queste animazioni troppo buone la tech room è la nostra tech room la nostra tech room è comunque uno degli aspetti caratteristici della prossima stagione e quindi dovremmo aspettarci grande lavoro grande attenzione nei box e sicuramente sin dai test prove su prove su prove per la maneggiabilità per riuscire a effettuare quelle manovre che ultimamente due secondi tre poco più quando si rasenta la perfezione in casa Red Bull sanno cosa vuol dire essere i campioni del mondo dei pit stop del cambio gomme ma potrebbe essere uno degli aspetti decisivi soprattutto inizio stagione con l'adattamento di chi ha a che fare con il cambio delle ruote e tutto quanto sarà nuovo nella formula 1 2022 ma di formula 1 ne abbiamo ancora per sei gran premi in questo 2021 come detto tappa oltre Atlantico Stati Uniti Messico e Brasile per poi passare alla novità lo Zail confermata in calendario gara notturna in Arabia Saudita Jedda gara notturna Abu Dhabi gara che finisce di notte quindi probabilmente sotto i riflettori si deciderà il mondiale di formula 1 a meno che per un filotto di disgrazie o di Hamilton o di Verstappen possa essere prima ma non prima del Brasile definito il mondiale 2021 che tanto ci diverte e ci appassiona come ci diverte e appassiona la formula Indy che è in letargo nonostante si stanno definendo team piloti che cambiano scuderia piloti che provano a India Napoli abbiamo visto girare Jimmy Johnson e Romain Grosjean ma altri credo mi pare Matteo tu che sei del ramo c'è la novità di Jack Harvey in Ray Hall che arriva dall'avventura con Meyer Schenke e dopo aver lasciato spazio a Elio Castroneves che incredibilmente a 46 anni torna full time pazzesco c'è Rossi che ha 42 anni si ritira e Castroneves che invece dopo aver vinto la quarta Indy 500 ritorna come pilota a tempo pieno si ritira dalle moto si ritira dalle moto si ritira dalle moto attenzione però attenzione perché potrebbero esserci delle novità succose si parla di WEC tanto ormai si è capito ha già fatto i test negli scorsi anni con la 24 hours è uno di quelli che avrà un futuro nelle quattro ruote poi resta da vedere quale categoria ma sicuramente il WEC è una di quelle più appetibili WEC che manca fine ottobre e novembre le ultime due gare della stagione WEC che quindi come la Formula 1 deve definire quello che sarà l'esito del campionato direi che possiamo chiudere l'appuntamento di quest'oggi come sempre molto ricco di contenuti di cose di cui parlare è da vedere l'animazione 3D di Fulvio torneremo con tante altre cose da qui in avanti e quindi non mi resta altro che ringraziare Fulvio per la sua grazie a te Alessandro e grazie a Matteo il buon Matteo che come sempre spesso e volentieri spero ci fa compagnia così come possa essere in futuro e quindi amici della Formula 1